E sì, sono le stagioni della vita e la famiglia. Siamo in collegamento telefonico col pastore avventista Paolo Benini per iniziare questa nuova puntata. Benvenuto Paolo. Buongiorno a tutti. Allora Paolo, come sempre ricordiamo qualcosa in relazione alla puntata precedente con un piccolo audio che ci è arrivato da parte di due genitori, Elena e Denim. Noi siamo Elena e Denim. Noi, grazie a Dio, abbiamo avuto il nostro piccolo Jason e guardandolo giorno dopo giorno ci rendiamo conto di quanto il Signore sia meraviglioso. In sottofondo sentite qualche suo vocalizzo, qualche suo lamento ed è bellissimo ascoltarlo ed è bellissimo stargli accanto, soprattutto perché come genitori abbiamo una responsabilità importante che è quella di insegnargli tutto, soprattutto di insegnargli l'amore. E preghiamo Dio che ci possa aiutare a farlo, soprattutto insegnandogli l'amore di Cristo. Noi, ora come ora, stiamo vivendo una stagione bellissima. Il matrimonio e l'essere genitori. E preghiamo Dio che ci aiuti a farlo nel migliore dei modi. Sentendo questa testimonianza mi sono detto quanto sarebbe bello se la maggior parte delle coppie offrisse questo grande contributo di positività, di fede. Spero che la testimonianza di questa magnifica coppia possa essere di stimolo a tanti altri. Dall'esterno potrebbe sembrare che io viva il mio percorso e i miei obiettivi quasi come un'ossessione, ma non è così, è vero il contrario, io mi diverto. Anche quando ho tagliato un traguardo, mi appendono una medaglia d'oro al collo, assieme al piacere di quel momento arriva anche la nostalgia di ciò che hai fatto per arrivare sin lì. Perché se hai amato quel percorso, inevitabilmente già ti manca l'averlo compiuto. Serve curiosità per puntare verso nuovi orizzonti. È la curiosità che mi ha spinto a guardarmi attorno anche nei momenti più difficili della mia vita e a trasformare ciò che era accaduto in un'opportunità. Immagino che chi ci segue abbia riconosciuto la voce di Alex Zanardi, un pilota automobilistico che ha avuto un grave incidente, nonostante tutto, e colui non si è reso. Ogni volta che vedo qualcosa, che leggo qualcosa su di lui, mi dico, guarda che bella testimonianza che questo uomo mi sta dando. Io non so se avessi potuto reagire in questa maniera. Sicuramente è un uomo che trasmette positività e che ci impone, ci invita a considerare tutte le situazioni negative come opportunità per imparare qualcosa di buono su di noi. Io credo che questo sia un giusto tipo di approccio. Recentemente ho avuto due situazioni non positive nella mia vita, negli ultimi tre mesi. Posizioni che mi hanno interpellato fortemente, mi hanno obbligato a chiedermi in cosa ho sbagliato. E ho fatto un'analisi che mi ha portato a vedere in questi due fatti negativi delle lezioni che il Signore mi vuole dare per correggere qualcosa in me. Non sempre abbiamo la possibilità di vivere momenti positivi. Ci sono anche quelli negativi, ma quelli negativi, d'altra parte la Bibbia lo dice, devono essere delle occasioni in cui permettiamo a Dio di far sì che dà male e scatturisca del bene. Quindi il tema di oggi come potremmo definirlo? Le perdite che incontriamo non siano motivi di sconfitta, ma stimoli per andare verso delle lezioni importanti per crescere. Quelle parentesi oscure hanno una funzione, quella di educarci a crescere. Ho trovato una sua intervista fatta per Famiglia Cristiana, dove proprio gli è stata posta questa domanda. La fede ha un ruolo nella sua vita? E lui risponde, perbacco, non ho mai chiesto al nostro Signore di aiutarmi. Di aiutarmi per i problemi in cui potevo cavarmela da solo. Ma ci sono stati dei momenti di confronto in cui sono stato certo di essere stato ascoltato. Mi rifiuto di credere che la nostra presenza in questo mondo sia solo il risultato di una combinazione chimica. Tutte le religioni hanno un punto di contatto con quanto abbiamo dentro, la nostra coscienza che ci ha dato il nostro Signore, che dovremmo consultare quando dobbiamo prendere decisioni importanti. Quindi Zanardi è una persona che crede. È credente, è credente, alleluia, mi fa piacere. Percorsi tematici Allora, ragazzi, voi vi starete sicuramente chiedendo perché vi abbiamo riuniti qui. Viola, amore bello, lo metti giù quell'affare, per favore. Basta. Ma, silenzio! Sto zitto! Sta zitto! Fermi! Allora, io e papà vi abbiamo riuniti qui, perché in questa casa ci siamo sempre detti tutto. Assolutamente. Magari non proprio tutto tutto. Ma è il giusto. Noi abbiamo forse tralasciato qualche dettaglio. Non è il momento. Proprio per questo volevamo dirvi... Semplicemente... Demetria, ritorna? No! Meno male, mi ero spaventata. Divorziamo. Cosa? Divorziamo. Chi? Come chi? Io e lei, noi, noi due. Mamma e papà, finito. È uno scherzo? Sinceramente, Giulietto, ti sembriamo due persone capace di fare dell'ironia su un argomento così importante. No. Sono stelefatto. Sono stelefatto. Questa cosa mi mette un'ansia. Sì, lo so. È tutto molto destabilizzante per voi. Però noi siamo sicuri che saprete distinguere benissimo la differenza tra la coppia innamorata e la coppia parentale. E comunque vada, noi saremo sempre una famiglia unita dall'amore, anche se non vivremo più sotto lo stesso tetto. E per quanto riguarda l'affidamento, siccome sappiamo che siete inseparabili, abbiamo pensato che sarebbe stato meglio che foste voi a decidere se restare con la mamma. O col papà. Certo, con la mamma o col papà. Mi viene da vomitare. Sono stelefatto. Quando? Quando cosa, angelo mio? Quando dobbiamo decidere se stare con mamma o papà. Ah ma, c'è tempo. Certo, decideremo con calma e tranquillità. Comunque, non prima di sabato. Ma oggi è giovedì. Appunto. Te l'ho detto. Abbiamo tempo. Mi sono invalesimato in quel momento con i ragazzi che hanno avuto la notizia tranquilla, calma, dai genitori che divorciavano. E questo mi ha fatto subito andare con la mente a mia licotina. Purtroppo mio figlio maggiore ha subito un divorzio, dico ha subito. E la piccola, ancora dopo tre anni, immagina l'ultima, l'ultima che ha detto, la ex nuora si è risposata, e ha detto a mio figlio, papà, ma quando il nuovo marito della mamma va per lavoro a tu e all'estero, perché non vieni tu a dormire con noi? Questo fa capire quanto certe perdite, anche se affrontate in una maniera serena, e questi due genitori, naturalmente è un film, quindi è stata costruita la cosa, sapevano che dovevano presentare la cosa in una maniera da prevenire, da preparare. non ce l'hanno comunque fatta, perché oggi sappiamo da studi fatti in varie parti del mondo che il divorzio, anche quando è fatto in una maniera dei piccoli, crea un buco, crea un trauma, crea una sofferenza, e ciò nonostante, benché lo sappiamo, continuamente ci sono situazioni di divorzio, di divorzio che sono una sofferenza troppo. Ci sono tante perdite, no? A parte la perdita della salute per un incidente come quello che Zanardi ha avuto, sti giorni ho letto sulle notizie di un allenatore di calcio che ha detto ho la leucemia, e io che conosco molti casi in cui ci si incontra con la realtà coritragica del tumore, è uno shock, questo uomo che è un uomo, è un leader, sta lottando per trovare un nuovo equilibrio, quindi non c'è solamente la perdita per un incidente, c'è la perdita per malattia, per una malattia semplice. In questi giorni ho un familiare che è all'ospedale perché ha una perdita di salute legata alla difficoltà di respirare nel sonno, poi ci sono perdite economiche, per un incidente stradale, perché un affare è andato male, per una disonestà di qualcuno con cui si stava negoziando, per tante immense ragioni ci sono delle perdite economiche, legate anche a delle questioni che non sono dovute a un comportamento scorretto di nessuno, ma si tratta di legislazione, faccio un esempio, conosco delle persone che abitano qui in Svizzera come me e che devono pagare qui tassi che la legislazione italiana non ha in Italia e quindi pagano qualcosa di pazzesco e non sanno come fare perché non possono disfarsi il bene che ci sono perdite legate ad altri aspetti estremamente più comuni, faccio un esempio, un esempio estremamente semplice, la perdita della libertà, la perdita di persone care, la morte, oppure la perdita che ha determinato uno stato di depressione, la perdita di forze, viviamo in una realtà dove questo non è evitabile, che determinano depressione, paura, determinano sconforto, perdita di fede, perdita di amicizie, siamo continuamente confortati con le perdite, ecco allora che in queste situazioni è necessario trovare degli agganci, dei punti di riferimento, dei punti di supporto che ci permettano di affrontare quel momento che è un momento doloroso, che è un momento che crea stress, che è ansia, crea nervosismo, che ci isola, dobbiamo trovare motivi per guardare oltre, per guardare avanti. Avanzando gli anni dobbiamo anche prepararci ad affrontare perdite di salute che arrivano assolutamente, certamente perché con l'aumentare degli anni ci si avvicina all'ora buia della vita. Avere un punto di appoggio è importante, trovare un punto di appoggio che vada oltre la mancanza di punti di appoggio umani è ancora più importante. La fede, la fede e lo dicono questi psicologi come Emerson, come Piaget, come altri, abbiamo bisogno di trovare qualcosa che ci dia forza e questo qualcosa che molti di oggi sottolinea è la fede. infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in Gesù Cristo nostro Signore. Cosa dice la scrittura in relazione alle perdite? Quali aiuti può darci? Ecco, allora tutte le volte che siamo arrivati a questa domanda c'erano più risposte. qui la Bibbia dà una assoluta fondamentale risposta che è Dio. La Bibbia ci testimonia di Dio, di un Dio che ci è vicino, di un Dio che ci vuole essere di supporto, di un Dio che si è rivelato e questo mi permette di aggiungere un altro nome oltre a quello di Dio, di Gesù Cristo. Gesù Cristo, Paolo, ispirato dall'esperienza che ha fatto con Cristo, ha scritto quella bellissima frase in Romagna al capitolo 8, però Gesù Cristo ha detto altre cose, c'è una frase bellissima di Gesù Cristo che dice venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo e voi troverete pace per le vostre anni e per le vostre vite. Non ci sono molte risposte, ce ne sono tante, ma questa è la risposta che ci introduce a tutte le altre. La Bibbia ci parla di Dio che è con Lui che può fare da contrappeso a qualsiasi perdita noi abbiamo. Questo è fondamentale e essenziale. Come poter vedere queste perdite come qualcosa che può cooperare per il nostro bene? Quella frase di Paolo, tutte le cose cooperano il bene, la possiamo comprendere soltanto se leggiamo anche i semplici versetti successivi o tutto il capitolo, perché quel capitolo è un paragrafo a sé nell'Epistola ai Romani. Quella frase di Paolo ha senso se dietro c'è Dio, perché Dio dà la fede, Dio dà la visione. Io ho perso mio padre e mia madre, mio padre mi è morto mentre lo penevo in braccio, mia madre è morta pochi minuti dopo, l'ho vista che ancora aveva il respiratore. Di fronte a queste perdite solo la fede nella promessa della vita eterna che Dio ci dà offre la risposta completa. Tutte le altre risposte che l'uomo si è cercato nel tempo sono risposte che non reggono alla realtà, non reggono alla storia. Ci vuole ancora più fede, credere che ci si rincarna, credere che si va in un mondo migliore. Credere tutte queste cose non hanno il supporto che la Bibbia dà, perché quando la Bibbia parla di vita eterna c'è una risposta storica, concreta, pratica che viene dal fatto che Gesù è risolto. La Bibbia dà questa risposta e offre queste prospettive. perdiamo tutto? Non abbiamo perso Dio. Perdiamo la salute? Sappiamo che Dio sta preparando nuove cene nuove terre dove non ci sarà più il dolore, la sofferenza e la morte. Abbiamo perso degli amici? Sappiamo che possiamo rincontrarli e rincontrarne altri se non loro che saranno portatori di un'amicizia di tutt'altro livello, tutt'altro peso, tutt'altra grandezza. Purtroppo può sembrare per molti quello che sto dicendo una chimera. Datemene una migliore e io la seguo, ma questa è quella che offre le soluzioni più radicali, più complete, più durature. Questo testo è fra i testi che a me piace di più, no? Tutte le cose cooperano al bene di quelli che credono in Dio. Appunto il punto focale è la fede. Cioè se si ha fede, anche le cose più disastrose, anche le cose più angoscianti, anche le cose più terribili, ecco, se si ha fede e quindi ci si è affidati al Signore, il Signore ci aiuta a viverle, ad affrontarle e a superarle. Purtroppo succede più spesso che quando ci capitano delle cose negative, queste ci insegno di più delle cose positive. Se perdiamo qualcuno, diamo valore di più alla vita, alla salute. Cioè riflettiamo, se siamo con Dio, riflettiamo sul fatto che la vita su questa terra è limitata e quindi solo Dio è la risposta. La salute, come dicevi tu, possiamo perderla in qualunque momento e Dio ha la risposta alla malattia. Ecco, ogni cosa possiamo vederla, affrontarla con occhi diversi, cercando di capire cose sto imparando. E' vero e questo è quello che ho detto nella prima fase della nostra permissione. Le cose che mi sono successe negli ultimi tre mesi mi hanno fatto crescere, mi hanno aiutato a che è meglio come gestire la mia vita, come non essere in ansia, come affrontare nuove realtà con uno spirito diverso, la realtà nuova che si crea. E' verissimo, ma tutto questo dipende dal concetto che ho detto poco fa. Alla domanda che ti hai fatto cosa dice la Bibbia, io ho dato una risposta secca. La Bibbia parla di Dio, è lì. E noi abbiamo bisogno di Dio. Una ricerca fatta dalle Nazioni Unite nel 2013, ripetuta nel 2015 e nel 2017, quest'anno dovrebbe essere riproposto, ripubblicato questo studio. Il titolo lo possono scaricare tutti per Internet e il World Happiness Report, rattorto sulla gioia nel mondo, commissionato delle Nazioni Unite, dice che il 73% della popolazione mondiale trova la sua gioia in Dio. Estraordinario. E cerca questa soluzione quando Dio non ce l'ha ben chiaro, ben vicino, cerca questa soluzione. non rimane altro, non rimane altro. Io ho conosciuto, quando ero pastore a Catania, una delle persone più ricche di Catania, forse tu ti ricordi, che a 5-6 aveva perché è morto. E questa persona possedeva di tutto, ha fatto di tutto, ha avuto tutto quello che voleva. È stato il primo a Catania da avere l'automobile. Quando è arrivato l'ora X, mi ha chiamato disperatamente perché aveva tutto, ma non aveva cercato nel corso della sua vita Dio. E questo lo dice una testimonianza anche Papa Gregorio Magno, che disse nella vita ho segnato agli altri su Dio, ma adesso che sta per morire io non me lo ritrovo. E dobbiamo avere coraggio di ammettere le nostre limite, le nostre sconfitte, le nostre disattese e andare a cercare, sin quando ne abbiamo tempo, Dio, perché Dio è a disposizione di tutti. Domande per riflettere Non capisco perché fuggano da me. Dovrebbero essermi gravi. Li sto salvando dal giudizio di Dio. A loro importa di Dio? No, hanno abbandonato Dio per seguire quel branco di luridi di eretici. Andiamo! Chi sei tu? Dimmi chi sei, oh signore! Io sono Gesù. Che tu perseguiti. No! No! Gesù è morto! No! No! I miei occhi sono cieco! E in questa parte del film appunto è il momento in cui Saul incontra Gesù sulla via di Damasco, perde la vista e quindi pensa di aver perso la cosa più importante, ma invece successivamente Paolo scriverà che ritiene tutte le cose importanti che aveva, il suo essere fariseo, il suo essere un dottore della legge, di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo, sono per lui una perdita. Quelle perdite che diventano guadagno. È meravigliosa questa cosa. Abbiamo domande per riflettere? Sì, prima domanda. Facendo una lista delle perdite che ci colpiscono, che ci hanno colpito, scusa la morte, quale perdita stimiamo la più pesante, la più grave? Ripeto, facendo una lista delle varie perdite che ci colpiscono e che ci hanno colpito, scusa la morte, quale stimiamo la perdita più grave, la più pesante? Seconda domanda, perché tante volte non siamo pronti ad affrontare le varie e continue perdite che la vita ci riserva? Ripeto, perché tante volte non siamo pronti ad affrontare le varie e continue perdite che la vita ci riserva? Vedo il nostro numero telefonico per i messaggini 348 290 1177 oppure potete mandarci una mail catania chiocciola radiovocedellasperanza.it e fateci conoscere le vostre risposte, quali sono state le perdite più importanti, quelli che vi hanno pesato di più, come le avete affrontate. Grazie allora, alla prossima. Saluti a tutti.